Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove faremo il nostro speciale 20 iscritti è una partita di software, oggi siamo pochi purtroppo, abbiamo avuto degli imprevisti, molta gente dei nostri non c'è però lo facciamo lo stesso, ormai abbiamo organizzato e adesso vi presento quelli che ci sono Allora, c'è Sam che è l'altro fondatore diciamo, MC51, MC51 elettrico, non sparare se non rompe la bocca C'è X, dillo te, vabbè, chiamasse, chiamate il comando, è il comando sembra di lui, vai io Comando poi c'è Giano con M4CQB elettrico, che per questo io, ok, Giano Poi abbiamo il cappistandre, pubblicità, iscrivetevi al suo canale, videominders è tutto, clash e robe varie Che è con un comando elettrico e poi abbiamo Vagliani, col pompa, però è molto bravo, c'è le sue tassi Che pompa affidabile, è affidabile, è affidabilissimo, e vabbè, partiamo Allora, adesso ci siamo nascosti, abbiamo approfittato di ieri, per riuscire a nasconderci perché siamo in inferiorità numerica Quindi adesso si parte con la prima partita, stanno già iniziando a salire sotto il bosco E adesso vediamo se riusciamo a vincere 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.